FABBIO SEVERINI RICCIONE Nato in questa città e musicista da sempre Io parto da molto lontano Proprio stasera peraltro faccio una piccola pubblicità Proprio stasera su Ray3 va in onda il film della Bohème Che abbiamo registrato a febbraio a Roma Proprio adesso recentemente E proprio stasera va in onda Ecco è buono saperlo perché così metto il promo subito Taglio questo pezzo e metto proprio Ecco così facciamo sana pubblicità Ecco quindi voglio dire alla fine ti arricchisce la musica La musica ti arricchisce, ti ingentilisce Ingentilisce l'animo